al lavoro al lavoro Grazie a tutti. Tutto è pronto. Possiamo partire. Voltare a sinistra. Grazie a tutti. Prepararsi a voltare a sinistra. 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 Partare a sinistra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Grazie a tutti. Prepararsi a destra. Voltare a destra. Grazie a tutti. Andare a destra. Grazie a tutti. 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 Andare a tutti. Andare a tutti. Andare. Grazie a tutti. 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 Tenersi a destra e poi uscire a destra. Uscire a destra. Voltare a sinistra. Grazie a tutti. Alla rotatoria prendere la seconda uscita. Uscire a destra. Tenersi a destra. Tenersi a destra. Uscire a destra. Voltare a sinistra. Finalmente siamo arrivati. Noi. 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 Noi.